Venerdì 3 febbraio, rieccoci cari amici con il nostro appuntamento del mattino, con il contributo del mattino, poi ovviamente ci sarà anche quello del pomeriggio e hanno fatto discutere le decisioni di Stefano Pioli che ha deciso di escludere dalla lista Champions Zlatan Ibrahimovic. E' un po' una decisione particolare perché in effetti ha del clamoroso se ci pensiamo, Ibra aveva come obiettivo quello di tornare a giocare e poi farlo in Champions League, evidentemente parlando col giocatore e facendo tra l'altro una riunione tecnica con l'area sportiva, e l'allenatore e il giocatore hanno alla fine, tutte le parti in causa, preso questa decisione di escludere Ibrahimovic dalla lista Champions. Un'esclusione che comunque fa rumore, un'esclusione comunque abbastanza clamorosa proprio per il fatto che lui si è operato a maggio scorso per ritornare in Champions League. Poi mi verrebbe anche da dire, e metti caso che il Milan miracolosamente dovesse passare il turno di Champions, perché il calcio è imprevedibile, superare quindi andate in ritorno il Tottenham e accedere ai quarti, e fra due mesi Ibra avrebbe tutt'altra condizione fisica, si mangerebbe sicuramente le mani per non esserci, anche perché Ibra non potrà essere reinserito nella lista Champions. L'unico cambiamento che si può fare è quello del portiere, infatti questa è un'altra cosa che bisogna commentare, nella lista Champions che ora andiamo a leggere, è stato inserito Tatarusanu, ma fino a 24 ore prima dal match si può cambiare, solamente però il portiere. Ora, se Mignan dovesse farcela nel match di andata, quindi il Milan Tottenham del 14 di febbraio, verrà sostituito Tatarusanu con Mignan. Se invece non dovesse farcela, all'andata giocherebbe Tatarusanu e poi il cambiamento verrebbe fatto nel match di ritorno a marzo, quando il Milan andrà a giocare in casa del Tottenham. A questo punto andiamo anche ad elencare la lista UEFA presentata dal Milan ieri a mezzanotte, più o meno. Abbiamo dato l'anteprima sul sito Milan News. Tatarusanu, Calabria, Benasser, Balloture, Tonali, Giroud, Braindiaz, Rebic, Leao, Hernandez, Calulu, Tomori, Chier, Florenzi, è stato inserito, Orighi, Malikiciao, Messias, Pobega, Krunic, Gabbia, Salemeckers, Mirante e De Ketelare. Quindi fuori Zlatan Ibrahimović e l'unico cambio rispetto alla fase a Gironi, che possiamo notare in questa nuova lista, è la sostituzione di Malikiciao con Serginio Dest. Fuori il giocatore americano in prestito dal Barcellona, dentro Malikiciao, che è di proprietà del Milan, ma comunque è stato utilizzato pochissimo fino ad ora. Ovviamente la scelta più forte, la scelta più importante, quella anche clamorosa, è l'esclusione di Zlatan Ibrahimović, perché comunque fino ad ora il rientro di Zlatan stava procedendo bene, nel senso che stava rispettando la tabella di marcia. Evidentemente dopo un colloquio con il giocatore, con Maldini, Massara e Stefano Pioli, le parti in causa hanno deciso per la non-convocazione, per il non-inserimento di Ibrahimović in questa lista. Fa un po' specie, fa un po' effetto, tutto portava a pensare all'inserimento di Ibrahimović nella lista Champions, invece non è stato così. Sta emergendo anche l'ipotesi di una scelta tecnica, ma comunque se si tratta di scelta tecnica, è una scelta condizionata dall'aspetto atletico e fisico. Se Ibrahimović fosse stato al 100% non avrebbe avuto alcun problema dal punto di vista fisico-atletico, sarebbe stato poi inserito. Quindi comunque, seppure si parla di scelta tecnica, è una scelta tecnica condizionata dall'aspetto fisico-atletico. D'altronde Ibrahimović non gioca da maggio, l'ultima partita è giocata proprio in casa del Sassuolo, quando è entrato nel secondo tempo della vittoria per 3-0 contro il Sassuolo, da lì l'operazione e poi non ha più giocato nemmeno un minuto. Parliamo comunque di un giocatore di ormai 41 anni, con un'operazione importante al legamento crociato e va gestito. Una cosa è un'operazione al crociato di un giocatore di 20-25 anni, una cosa è invece di un ragazzo di 41 anni. Ibrahimović a ottobre ne compie 42 di anni, quindi va sicuramente gestito e il suo utilizzo sarà sicuramente centellinato da qui alla fine della stagione, dove poi pensiamo che alla fine smetterà almeno col calcio giocato, con il Milan ad alti livelli, perché ovviamente si vede che negli ultimi mesi ha sofferto parecchio e non è stato più all'altezza dal punto di vista atletico proprio, soprattutto in gare di Champions, dove i ritmi sono più alti, dove i movimenti sono diversi rispetto al campionato italiano della Serie A. Comunque fatemi sapere anche la vostra idea, è giusto o non è giusto aver lasciato fuori Ibra? Ve l'aspettavate? È una scelta sorpresa? È una scelta che ci può stare? Insomma scrivete anche i vostri commenti. Una scelta invece un po' particolare, ancora una volta la conferma dell'esclusione di Vrancs. Dopo la fase a Gironi, in cui Vrancs era stato escluso dalla lista UEFA, qualcuno si aspettava un inserimento in questa fase a scontri diretti contro il Tottenham, agli ottavi di Champions, e invece no. Alla fine l'unico giocatore diverso rispetto alla lista precedente, l'unico giocatore diverso è Malik Chao, il difensore che è arrivato in estate dallo Schalke, al posto di Dest, mentre a centro campo, insomma, né Adli né Vrancs sono stati presi in considerazione. Ormai Vrancs è un po' un mistero, perché tutti lo vorrebbero vedere di più in campo, ma alla fine non gioca mai, e per lui non ci sarà spazio nemmeno in Champions League. Commentata questa situazione un po' particolare della lista UEFA, stamattina sulla Repubblica, il giornale La Repubblica, ha parlato un esponente della cordata di Invescorp, che era pronta ad acquistare il Milan, vi ricordate la cordata del Bahrain, era pronta ad acquistare il Milan un anno fa per circa 1.1 miliardi di euro. Si era anche arrivati ad una trattativa esclusiva, tra le parti, poi ad un certo punto qualcosa non è andato per il verso giusto, ed è saltata la trattativa. Mi ricordo che c'era la due diligence in atto, mi ricordo che c'era una trattativa esclusiva di un mese e alla fine di questa trattativa esclusiva Elliot ha preferito poi aprire anche le trattative con altri individui, altri fondi, e alla fine hanno scelto di legarsi al fondo Redbird Capital di Jerry Cardinale. Ma Invescorp, secondo quello che dice un portavoce al quotidiano, la Repubblica avrebbe investito dai 300 ai 400 milioni di euro sul mercato. Notizia forte questa, soprattutto ora che i tifosi sono giustamente non contenti delle spese che sono state fatte sul mercato in estate e in inverno, addirittura in inverno il Milan non ha speso nulla, sentire queste cifre sono cifre importanti. Sentite, allora il portavoce ha svelato, non posso entrare nei dettagli, ma posso confermare che la nostra cordata si era impegnata sia ad acquistare tutte le quote di maggioranza del Milan, sia a garantire il successivo investimento sul mercato di 300-400 milioni per riportare subito la squadra al livello più alto d'Europa, come la sua storia merita. Era tutto equity. Se Elliot avesse voluto, gli avremmo lasciato le quote di minoranza, quindi sono comunque delle dichiarazioni forti. Ora bisogna capire, ragazzi, dove è la verità, perché comunque è facile fare delle dichiarazioni del genere ad un anno dalla trattativa, si può anche dire qualcosa di non vero. Io spero che non sia così, perché se fosse vero, Elliot avrebbe preferito il fondo Redbird Capital finanziando anche la metà di quel miliardo e 200 milioni, perché 600 milioni sono poi forniti da Elliot a Redbird Capital, e la situazione sarebbe comunque molto molto particolare. Comunque, questo portavoce della cordata Invescorp afferma che erano pronti 300-400 milioni e insomma sono parole che fanno assolutamente riflettere. Chiudiamo il video con le ultime dal centro sportivo di Milanello, la squadra si sta allenando questa mattina, il mister ieri ha provato a cambiare qualcosa, ha provato un 3-5-2, modulo a specchio rispetto a quello dell'Inter, l'Inter di Inzaki gioca sempre col 3-5-2, un 3-5-2 che poi si può alleggere anche con un 5-3-2, perché i due esterni si abbassano e vanno ad aiutare la difesa, una difesa che in questo momento ha bisogno di maggiore protezione, vedremo un Milan più accorto, un Milan più coperto, più abbottonato, il primo obiettivo è non subire gol, perché quando il Milan subisce gol poi la squadra si sgretola, si scioglie, l'obiettivo è dare fiducia alla squadra, magari inserendo qualche giocatore in più tra centrocampo e difesa e provare a resistere alle offensive dell'Inter, quindi l'obiettivo rispetto al passato è cominciare a non subire gol, poi il resto viene da sé, vediamo insomma nelle prossime ore se ci saranno novità dal centro sportivo di Milanello, noi ci sentiamo nel pomeriggio e vi ricordo che domani è giorno di conferenza stampa, parlerà in conferenza a Milanello Stefano Pioli alla vigilia di Inter Milan.